buonasera e bentornati a pan flame la rubrica in cui parliamo dei temi scottanti dell'attualità e di quello che più ci va in questa puntata speciale parliamo di fumo e fumatori non di tutti i fumatori seguitemi in questo identikit del fumatore incivile numero 1 le cicche o mozziconi abbandonati ovunque al di fuori dei posacenere o degli appositi contenitori sono biodegradabili è vero ma probabilmente dureranno più di voi numero 2 il fumatore incivile è quello che fuma all'interno di ambienti chiusi oltre a ingiallire i denti invecchiare la pelle e una serie orribile di brutte cose il fumo si attacca alle pareti della stanza e sui vestiti numero 3 il fumatore incivile è quello che fuma a fianco ad altre persone senza chiedere se questo può arrecare disturbo o dare fastidio il fumo passivo è un problema reale potete chiederlo a chiunque che non fumi e con questo è tutto ci vediamo al prossimo episodio di Serena Variabile o di Panflame un saluto e un bacio